E' uscito il comunicato qualche attimo fa, belle notizie, nessun contagio, nessun giocatore del Milan positivo, questa è la breaking news del pomeriggio, quindi una bella notizia, ai giocatori c'era stato dell'allarme, qualche indiscrezione, si pensava due o tre giocatori, invece no, nessun giocatore positivo agli screening fino ad ora, quindi meno male cadono queste indiscrezioni nel lato ovviamente favorevole al Milan e sono contenti anche i tifosi rossoneri. E dunque una bella notizia, il Milan può proseguire con i suoi allenamenti individuali, tutti a disposizione, attendiamo ora l'arrivo di Chessy, ancora un po' tribolato il suo arrivo, e poi quello di Ibrahimovic che arriverà lunedì intorno alle ore 13. Quindi questa è la notizia, si rimane, ma si è risolto molto bene anche in questa situazione, con i due che hanno più sofferto, cioè Paolo Maldini e il figlio Daniel, Daniel si allena già con la squadra, quindi ha recuperato, anche non ci sono stati, si è letto anche che può lasciare degli strascichi, ecco nessuno strascico né per Paolo né per Daniel, Daniel che fa attività agonistica, ma Paolo anche lui vuole mantenere in forma il suo splendido scultore o fisico e quindi salvo questi due episodi non ci sono altri giocatori che debbano interrompere l'attività, quindi verrà sempre monitorato l'intero gruppo, quindi bella notizia, nessun giocatore positivo. Nel frattempo ogni giorno, sempre a gruppi, continuano gli allenamenti sotto gli occhi, lontani ma vigili di Stefano Pioli, gli allenamenti a Milanello, giornate belle anche domani, mentre, faccio anche da meteorologo, dovrebbe esserci pioggia pesante lunedì e anche freddo, martedì e mercoledì, ma non si fermeranno certo gli allenamenti, ritorna Ibrahimovic, quindi il fatto che lui torni lunedì, lunedì è il giorno 11, 11 più 14 fa 25, potrà unirsi al gruppo intorno al 25, al gruppo che ci auguriamo possa allenarsi già in gruppo dal 18, dipenderà appunto dalle varie riunioni di federazione, governo e anche intanto guardo esatto se c'è qualche altra notizia, governo, federazione e dunque all'unisono e soprattutto i comitati scientifici. Quindi bella notizia oggi, il Milan prosegue con tutti i suoi elementi, non ci sono giocatori positivi, questo è una bella notizia e sicuramente vi è piaciuto questo video e mettete il vostro like.